Dio educa il suo popolo Siamo con Don Giacomo Morandi, quale sarà il programma di questo nono convegno biblico diocesano? Il programma è una relazione introduttiva sul libro dell'Esodo che è il libro biblico dell'anno scelto anche dalla diocesi per approfondire il tema dell'educazione. Questo libro fornisce proprio delle coordinate spirituali per l'itinerario di formazione e di educazione che Dio ha stabilito, ha realizzato con il suo popolo. Quindi il taglio è quello proprio di aiutarci ad approfondire i grandi temi dell'educazione così come emergono dalla parola di Dio, dalla scrittura. L'educazione è un tema importante, lo ha confermato la lettera pastorale del nostro Vescovo. Qual è il significato dell'educazione oggi? Beh, è una sfida innanzitutto che la Chiesa deve fare propria. Possiamo dire che l'esperienza della Chiesa è sempre stata un'esperienza di impegno in questo settore che è vitale. Cioè riuscire in altre parole a educare all'autentico desiderio. Cioè credo che una delle priorità oggi che avvertiamo con una certa urgenza è riuscire a rimodellare i desideri e orientarli autenticamente, sia come persone umane sia evidentemente come cristiani.